Ma come si fa? Oh! Ciao! C'è anche voi lì là dietro. Ma come si fa a vedere? Aspetta che io sono un po' imbranata. Oddio, come sono brutta, vengo malissimo. Vedi in verticale si vedi meglio. In verticale vengo sempre male, vengo meglio in verticale. Ciao! L'ho scritto pure su Facebook qua. Aspetta, non so se è andato. Chissà se si può mettere il link su Facebook. Vedi se ne lo sanno, si può mettere il link della live. Si può mettere il link su Facebook. Ciao! Aspetta che non leggo, devo avvicinarmi per farvi vedere la sole. Come devo fare? Scenerò gli occhiali. Oddio, vabbè. Ciao Maria, come scrivete veloce. Che hai pranzato, per lezione. Ciao, che ho pranzato. Allora, che abbiamo mangiato? Ah, non lo possiamo dire. Una ricetta che vedremo. Ho mangiato una pasta troppo buona che ho registrato il video. Lo vedrete nei prossimi giorni sul mio canale di Cucina. Comunque ciao, queste belle camicia roberta. Che nomi strani ci avete. A sia chiappa. Ragazzo, ma che su stiamo? A sia chiappa. Vabbè. Ma che nasore. Sì sì, ci sta. E questa è la mia cameretta. Ci sta anche Rezzina. Ci sta anche Molly che dorme sul mio letto. Non è tanto bella la mia cameretta. C'è una farfalla. È molto semplice. Che bella questa cosa. Sì, pure per me è bella sta cosa. Solo che sono un po' embranata. Ehm, insomma. Ciao. Non so se vedete, sentite tutto bene. Io vedo solo voi. Ciao Roberta. Che bello. Quanti cuori. Cuori verdi, viola, rosa. Troppo belli. Comunque ho appena montato il video per domani. Troppo troppo contento. Un video bello bello. E poi stavo facendo, stavo anche registrando un video speciale che voglio mettere mercoledì. Una sorpresa, un'edizione straordinaria. Quindi mercoledì ci sarà il video sia sul mio secondo canale, anche uno straordinario sul primo canale. Ma dove devo guardare io secondo te? Io mi guardo. Guarda l'obiettivo. Ah, qua. Qua devo guardare. Vabbè. Anche noi vi vogliamo bene. Ciao Martina. Ciao. Sì, sì. Te lo saluto Valentina. Come siete dolci, ragazze? Che bello. Mi sto stancando la mano. Ci vorrebbe... Eh, il cavalletto. Eh, il cavalletto. Dai, comunque è bella sta cosa. È una figata. Ragazze, volevo mettere pure il link su Facebook. Però non so come si fa a mettere il link. Cioè, per vederlo magari dal computer, la live. Ma quello dal computer non funziona. Sai che alcune persone pare che mettevano il video? Quando farete un altro video... Sei bellissima. Ah, grazie Giulie, ti adoro. Sì, lo voglio fare spesso. Voi stavo pensando, voi magari se mi volete fare delle domande possiamo anche fare una di queste live che voi, non so, mi rispondete alle domande perché spesso non sempre riesco a rispondere nei commenti, sotto i video. Quindi magari se volete farmi delle domande vi posso rispondere così. No, su Twitter dice solo, puoi mettere il link. Ah, su Twitter. Aspetta, come si fa? E come si fa, ragazze? Ciao dalla Puglia! Ciao! Ciao Puglia! Ci dobbiamo mangiare le orecchiette, mi ha fatto ricordare. Sì, sì. Bello lo sbatto. Vado il mio! Ciao Maria! Ma che vuoi? Il mio è più bello! Ragazzi, il mio è più bello! Il tuo è prugna! Il mio è più bello! Il mio è più bello! È pure il mio! No, a te è una cosa... Cioè, questo qua te lo fa il mese di novembre, non adesso! Non è vero! Lo sbatto prugna, ragazze, ditemi se non è vero. Ma fate da solo su Twitter, perché tu l'hai collegato a Twitter il tuo periscope. Allora, c'ho l'ombretto quello là della Essence, la palettina, sembra una pazza, ma sembra un peggio. Grazie! Comunque c'ho la palettina di Essence, quella là, classica che vi ho parlato nel video di Essence, un sacco di tempo fa che aveva buon inci. Ho fatto con quella là, un po' con questo... Mi vedi perché sto a terra! Vabbè, ti aspettiamo a Ischia! Che bella! Ma quest'anno non sono riuscita ad andarci! Bella Venezia! Vabbè, io comunque a Venezia ci voglio andare, assolutamente! Nezi, fatti vedere! Ciao! Sto un po' sconvolta, ragazzi! Ma dai, datti una sistemata! Posta anche Molly che mostra il suo sedere! No, Molly non se ne frega, vuole dormire, ragazze! Se non se ne frega, non se ne può fregare di meno! Comunque, a Firenze! Ma dai, ma lo sai che io... Cioè, Firenze per me è una delle città più belle d'Italia! È troppo troppo bella perché... È vero! Ciao da Verona! Ciao! Ciao Maria! Ciao! Un bacio grande! Ciao Asia Pazzari 02! Sì, ci torniamo! Ciao Tiziano Sufani! Tanti dalla Calabria! Dai, tanti dalla Calabria! Anche da Brescia! Anche dal Nord ci siamo! Anche da Napoli! Dal Nord! All'Alessandro Siani! Avete visto in questi giorni ha fatto il film di Siani, l'ha rifatto! Ciao Roma! Che adesso dovrebbe fare pure Benvenuti al Nord! Eh, giovedì lo fa, ragazzi! Ah, che bello! Dovedì! Quindi... Perché di solito fa sempre uno dopo l'altro! E invece stasera poi... Vabbè, sto facendo proprio il... La presentazione! La presentazione! Stasera fa quello di Checco Zalone! Che è pure carino! Però chissà se lo riusciamo a vedere perché... Sì! Ora tra poco andiamo in palestra e quindi poi... Prima è una bella merenda! Speriamo che non si... Adesso dobbiamo fare merenda, ragazzi! Una grandissima merenda! Fabulosa! E... Che è anche questa! La vedrete! Sì sì sì! Abbiamo fatto il video ieri eh! Sì sì sì! Oggi è stato il video di questa super merenda che pone... È proprio un dessert buono buono! E... Lo metteremo sul secondo canale in questi giorni! E quindi tanto che... Ciao Sara! Avanzato! Ce lo mangiamo pure oggi e poi ce ne scappiamo in palestra! Ci andiamo a allenare! E... Speriamo di non fare troppo tardi per il film! Ciao Anna Maria! Mua! Che belle che siete! Ma è troppo... È troppo figa sta cosa! Che poi... Io ho pure la connessione lenta a casa! Però comunque va bene! Pensavo che... Vero! Rispetto alla live di Youtube! Oddio! Sembra di connessione! Vuoi fare una pazza! Vero sembro nera nera! Sembra una cozza! I capelli neri! La faccia nera! Guarda la nera! Guarda la nera! Guarda la nera! Ragazze! Pollice in su! Si può mettere pollice in su qua? No! Vallate cuoricini per nensi cozza! No! No! Cozza! Guarda! Ma tu c'è così bello! Puoi fare pure queste parti! Cioè dico io! Vabbè! Ti puoi proprio far dire che sei un mostro! Vabbè! Comunque magari... No! Però ho sentito che su Facebook! Non so se le ragazze l'hanno letto! Vabbè! Comunque! Troppo troppo bella! Sì sì! 2.000 persone! Ok! Va bene! Tutto a posto! Ciao! Ciao Manuela da Treviso! Ciao! Maria Rubino! Ciao! Ciao! Che bello! Quanti cuori! Ma no! Ci state comandando di cuori! Chiude un po' la porta! Aspetta! Chiude un po' la porta! Ma che ti riprendo mentre chiudi? Eccola! Ti ho ripreso! Vabbè! Forse... Guarda! Ho dato la quantità di panni a pesi! La media aperta! Vabbè! Comunque! Almeno mettiamo un po' di ordine! Ragazze! Non so voi! Ma noi tiriamo un sacco di casino! Mi sembri la nana! Ma che fai? La terra! Cioè! Questo è basso! Vabbè! Comunque ragazze! A parte tutta la follia! Ovviamente! Volete fare qualche domandina? Dai! Fatemi qualche domandina su... Cosmetici! Bio! Prodotti! Queste cose qua! Avete visto il video di ieri ragazze! Il video che abbiamo fatto io in Enzina! Del nostro ritorno dalle vacanze! Vi è piaciuto il video ragazze! Speriamo! Fanno sempre piacere i vostri apprezzamenti! Noi speriamo tanto che vi sia piaciuto il video! Quando fai un incontro a Napoli! Speriamo ragazze! Presto nuovi incontri! Speriamo! Mamma mia! Perché è troppo bello vedervi! E potervi abbracciare dal vivo! Ma no! Una cosa troppo troppo bella e fantastica! Io li vedo sempre tutti i tuoi video! Grazie Monica! Bacio grande! Ha una pelle grassa! Che scrub mi consigli? Ti hanno chiesto! Mi consigli una? Un scrub per pelle grassa! Ah vabbè! Ma uno scrub tipo fatto in casa? Sì! Vabbè fatto in casa! Tipo potresti metterci anche un po' di gel d'aloe vera che è purificante! Poi per lo scrub tantissimo lo zucchero! Il sale! Il sale pure molto astringente! Un po' di gel d'aloe vera! Ti fai un bel scrub esfoliante! Ovviamente senza esagerare troppo con gli oli! Non sono riuscita a leggere che era! Fa ragionamento sui nuovi prodotti Garniere! Perché ci sono dei prodotti nuovi di Garniere con buon inci ragazzi? Ma sapete che non lo so? Vabbè andrò a fare una missione per Garniere! Comunque grazie! Ed io ho fatto anche qualche tua ricetta! Soprattutto la coccarlita che adoro! Ma dai! Bravo! Bravo! Non sono riuscita a vedere se era un maschio o una femmina! Perché pure i maschietti mi seguono! Sì! L'abbiamo fatto il blog Arconad! Poco lo vedrete! Ah sì! Abbiamo fatto anche il video! Ciao ti saluto! Sei di Napoli! Ciao Maria! Il sale! No lo sai! Il sale è miso! Non è aggressivo! Perché comunque il sale è sottile! Ovviamente quello fino! Ovviamente è unito ad altri ingredienti! Tipo il miele! Tipo il miele! Il gel d'aloe vera! Un bel esfoliante! Che è molto astringente! Quindi stiamo parlando di pelle grassa! Magari molto impura! Con molto sebo! Ha bisogno di essere pulita bene! Quindi può andare bene! Poi comunque dopo si mette sempre la crema idratante! Per allenire il tutto! Prodotti per smagliature! Guarda! Per le smagliature! Proprio in questi giorni ho guardato al suo mercato quell'olio di Provenzali! Sì! Che è buono proprio! Quell'olio ragazzi! È un olio che sulla confezione è troppo carino perché c'è una donna con un pancione! Perché è indicato per le donne incinte! Però praticamente altro non è che un mix di oli! Io vi feci anche il video per un mix di oli con rosa moschita, olio di jojoba! Ed era molto molto adatto! Ed è molto adatto per le donne con le smagliature! Per prevenirle! Per combatterle! E non solo insomma per le donne incinte! Quindi se lo trovate! Poi qualsiasi olio vegetale! Lo dimandano i dolci di jojoba! Qualsiasi trovato al suo mercato! Vanno tutti tutti bene! Crema viso per... Ah! Si stanno scatenando con le domande! Crema viso pre-trucco per pelle secca! Allora una crema viso diciamo pre-trucco per pelle secca è facile a trovarla! Più difficile a trovarla per pelle grassa! Per pelle secca una qualsiasi crema bio! Perché solito le creme bio sono belle ricche! Quelle belle al burro di karité! Adesso tipo... Ah! Poi per le creme viso! Proprio oggi ho pubblicato il post sul blog! Se vai sul mio blog www.caritadorci.com ho fatto un post proprio oggi su tutte le creme viso! Prodotti viso! Insomma c'è anche qualche crema buona da supermercato! che puoi trovare! Una ragazza che aveva chiesto terra abbronzante bio! La terra abbronzante bio pure! Vi piace il video ultimamente! a me piace tantissimo quella della... come si chiama quella nera che abbiamo noi? Della... oddio mi sfugge il nome! La nera! Eh quella nera! Che abbiamo nel bagno! Ah no! Come si chiama? Ah liquid flora! Ah liquid flora! Quella è buonissima quella terra! E anche comunque... Tipo economica anche la essence! Si! Fa qualche terra! Quelle sun club! Quelle là tipo hanno un buon inci! Sono accettabili! Ehm... Si sono abbastanza buone! Si è anche puro bio! Infatti anche nella video vi faccio vedere anche la terra di puro bio che è anche buona! Bravissime che mi seguite ragazze! In tre zone ho guardato tutti i video! Sei bellissima! Grazie Chiara! Ti mangio bravo! 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 Dove trovo il burro di karité? Allora il burro di karité tu lo puoi trovare anche al supermercato! Tipo per esempio c'è quello dell'Omnia Botanica che è un bel barattolo tipo così di latta di burro di karité che è puro quello dei provenzali anche c'è un po' di profumo però comunque è buono! Se lo devi comprarlo sui siti di materie prime anche in farmacia lo potresti trovare però devi stare attenta perché spesso ti vogliono vendere le creme al burro di karité che però costano un sacco di soldi alla fine hanno pure siliconi petrolati quindi è meglio evitare! Io l'ho fatta ad arrivare da Roma al zone! Maionese vegetale! Eh infatti sì la maionese vegetale proprio in questi giorni ne parlava! Io profiterò il biobè sarebbe fantastico! Pochi capelli e fini? Pochi capelli e fini! Vabbè ci vuole uno shampoo volumizzante per pochi capelli e fini! Non troppo aggressivo! Attenzione anche balsami ragazzi perché quando i capelli sono fini l'errore che si fa magari di mettere troppo balsamo è praticamente si sporcano e si appesantiscono quindi usate sempre un balsamo completamente bio a base per esempio di Esterqua che è molto molto leggero e rende proprio i capelli così morbidi e voluminosi! Un buon bagnoschiuma dal suo mercato! Un buon bagnoschiuma dal suo mercato! Un buon bagnoschiuma dal suo mercato! Poi ce n'è qualcuno di... Di chi? Altri gentli al Todis pure! C'è qualche bambino che sono buono poi? Della scia nella diretta video? Ah quelli della scia nella Lidl! Vabbè non è bio però comunque a Boninci sapete a Lidl! Ah no! Ho letto che uno vuole mettere il teatro e quello sul brufalo! Non la mettere! No puro non si mette! Oddio finalmente in diretta con te! Non ci posso credere! Ciao! Daphne! Ciao! E' tra tanto tempo che dovevo fare questa live su... come si pronuncia? Periscope! Perché io sapete alla caleta dolce dico periscope perché sono praticamente una capra! Che va bene però Periscope lo dovevo fare un sacco di tempo e adesso finalmente ce l'ho fatta e sono troppo troppo contenta! Capelli molto secchi! Mi saluti! Ciao Mariange! Ciao! sì ci sono anch'io ciao che bello per i scop ragazzi l'ho detto bene quindi niente ciao Arianna ciao che bello ciao qualche chiletto in più come faccio a farmi mangiare la fame senza mangiare schifezze questa è una cosa troppo troppo bella allora prima di tutto ti dico non è che tu ti devi far passare la fame non devi avere fame perché comunque non è tanto male avere fame l'importante è che tu quando hai fame non ti mangi le schifezze ma ti mangi cose sane oppure magari ti mangi una cosa schifezza piccolina e poi tutto il resto sano l'importante non è un problema avere fame anzi è una cosa giusta e buona io ho perennemente fame dalla mattina alla sera però insomma cerco di mi piace proprio mangiare le cose più sane insomma perché anche le digerisco meglio mi sento mi fanno bene anche alla pelle sapete le cose magari troppo grasse troppo così possono far uscire qualche brufoletto quindi ad esempio tipo puoi mangiare le verdure crude che sono croccanti e ti saziano magari prima di cena poi anche tipo le tisane gonfiano tanto la pancia e ti saziano quindi magari ecco ti prendi invece di mangiare tutta la busta dei biscotti te ne prendi tre o quattro e poi ti bevi una bella tisana un bel bicchiere di tè verde vedi che ti gonfia ti sazia e ti fa tanto bene perché il tè verde è antiossidante e fa benissimo mi saluti poi c'è una ragazza che ha detto che ha fatto un gruppo di whatsapp con le sue amiche Carlita Lamiaura che bello salutamele tutte mi saluti ti prego saluti da Tapani siero per pelle grassa sai che io volevo fare proprio una ricetta fatta in casa per un gel viso un siero per pelle grassa perché spesso a volte tipo un po' in passato feci il gel viso brufolo kill se vi ricordate quello gel anti imperfezioni perché sono molto molto utili anche a me per esempio in periodi dell'anno in cui mi sento la pelle impura non reggo nulla la crema non la sopporto quindi vorrei fare qualche verrai a Cremona speriamo io fossi come si è andato se tenere un colore di capelli freddo come il tuo c'è un colore freddo freddo si guarda toccali come soffreddi no vabbè perché io lenni diciamo che questo però è anche il mio colore naturale è vero che faccio lenni però che va a amplificare il colore renderli più lucidi e più belli infatti io su youtube feci il video del del gloss per capelli che proprio di recente una ragazza ha fatto troppo troppo contenta mi ha fatto i complimenti mi sto trovando tanto tanto bene e io uso appunto mix sia di nero e n rosso di modo che viene una cosa un po' più fredda e non troppo caldo non troppo ramato perché se usi l'n rosso da solo ti può venire sta cosa invece ci metti un po' di n nero un po' di amma un po' di katam ma lo di noce ti viene un po' più freddo molly e cookie molly sta qui che dorme molly sta qua e invece cookie sta fuori che non vuole entrare cookie no si entra fa un casino ora lo chiamo aspettiamo come sta max sta bene sta bene me lo saluto che carini che siete troppo troppo gentili comunque niente vabbè ragazzi mi volete fare qualche richiesta se mi volete fare qualche richiesta nancy è uscita perché è andata a chiamare a cookie se mi volete fare qualche richiesta io me le segno così nei prossimi video vi faccio vi accontento le vostre richieste mi va sempre piacere siete simpatiche bellissime grazie lenuccia bacio grande senti nancy che fuori fa chiamare cookie cookie per berenda cosa dovrei mangiare qualcosa veloce perché non ho tempo e allora tu puoi mangiare anche per esempio uno yogurt con un po' di frutta a me faccio certe macedoni certe coppe come ci metto la frutta la taglio poi ci metto lo yogurt sono molto molto buone ci farai un video essence video essence sì e vabbè io le faccio sempre video essence ragazzi però sì comunque avete ragione ci devo tornare mi avete trovato qualcosa di bello di nuovo da essence fatemelo sapere perché io voglio fare qualche aggiornamento su essence basta ma per capelli secchissimi per capelli secchissimi hai ragione sai che io ho fatto anche un video preparato per capelli secchissimi e nei prossimi giorni ve lo caricherò è proprio una cosa ottima per capelli secchi comunque per capelli secchi puoi prendere anche le maschere dal supermercato tipo c'è quella dei provenzali poi c'è quella di omia laboratorio e salargan la macadamia che sono ottime sono molto molto nutrienti video shopping sì il problema è che però siamo state brave non abbiamo fatto tanto shopping a parte quello delle vacanze quindi appena andremo a fare un po' di shopping ancora c'è una linea natural line sì dai allora andremo a vedere consigli per capelli grassi che si sporcano subito è una cosa che mi chiedete tentante devo fare qualche qualche ricettina una la feci ultimamente pure ad esempio risciacquo acido sui capelli a fine lavaggio tende a far durare di più infatti questa cosa me la devo segnare perché volevo fare un video aggiornamento su questa cosa del risciacquo quindi sì perché diciamo che tende a mantenere i capelli più lucidi più puliti più a lungo quindi non li dovete lavare troppo spesso quando fai i tutorial di ricette cosmetiche dici dove comprare i prodotti sì in effetti quando faccio i tutorial delle ricette di cosmetici non lo dico ogni volta perché io quasi sempre mi fornisco dalla farmacia vernile oppure da mineraliberi questi sono i due siti più che mi fornisco quindi non lo ripeto ogni volta è vero perché mi dimentico dopo il scontato che un po' tutti lo sappiano rispondi ai direct direct o direct eh vabbè direct penso vabbè i messaggi privati su instagram comunque i messaggi privati su instagram io no rispondo meglio scriverli in pubblico secondo me ahimè non rispondo perché per il semplice fatto perché preferisco più rispondere a una domanda e un dubbio pubblico no ad esempio anche su una foto su instagram oppure su blog su youtube su facebook così diciamo se tu mi poni quella domanda la leggono più persone magari hanno lo stesso dubbio è più utile no quindi purtroppo non ho molto tempo a disposizione quindi preferisco rispondere insomma pubblicamente solo per questo insomma però accetto comunque tutte le vostre richieste portaci con te in palestra si in palestra volete venire così vi allenate assieme a me non mi conviene perché si suda ragazze ci alleniamo pesante qua girl power quindi ci alleniamo forte oggi poi abbiamo anche il corso di di cosola di pilates quindi ci facciamo un po' un po' di allenamento poco poi domani facciamo l'allenamento più grande e poi facciamo il corso di pilates che fa tanto tanto bene alla schiena alla postura pilates lo adoro veramente ti rilassa anche la mente è fantastico sì abbiamo fatto zumba anche se non abbiamo proprio il senso di ritmo zumba sì diciamo che lei sa zumbare zumba proprio una favola proprio zumba no vabbè siamo due sciopera due schiappe però è divertentissimo è troppo bello zumba noi per un periodo l'abbiamo fatto proprio assiduamente solo che poi insomma per per dignità personale insomma abbiamo preferito dedicarci a cose un po' meno coreografiche perché non abbiamo molta in palestra questo facciamo gli attrezzi pilates sì in palestra facciamo questo mi è piaciuto molto il video che hai fatto a Nizza grazie che carine quando mi dite proprio che vi facciano i miei video veramente sono troppo troppo contenta comunque la prima ginnastica la sto facendo adesso ragazzi sto facendo i bicipiti per mantenere il telefono in mano perché il mio cellulare è un mattone no vabbè ciao Carli posso farti una domanda riguardo all'università certo se ti posso aiutare con tutto il cuore saluti dalle apuglia Martina consigli per la pancia gonfia per la pancia gonfia ti consiglio l'infuso di finucchio guarda è fantastico che poi vabbè noi donne la pancia gonfia ce l'abbiamo insomma in quei momenti particolari tre durante post insomma e quindi insomma un po' ce la dobbiamo tenere però l'infuso di finucchio tipo è molto molto buono in questo senso te la sgonfia la pancia ti aiuta e poi è buono a me piace il finucchio oggi è il mio compleanno auguri non sono riuscita a leggere il nome tanti auguri tanti auguri dei prodotti da supermercato ah dei prodotti da supermercato è vero allora ho preparato un video dei prodotti da supermercato però non so bene ancora quando lo metterò comunque sicuramente nei prossimi giorni sapete che a me piace alternare la ricettina prodotti da supermercato il video con la nensina quindi faccio un po' tutto l'app salute che conta i passi e io ho quella là che ho detto vi ho detto nel video di venerdì quando era il video il video di venerdì ho detto quell'app per i passi mi trovo veramente veramente bene ieri io e nensi abbiamo fatto quanti passi abbiamo fatto 10.000 passi 10.000 no 11.000 11.000 passi abbiamo fatto tipo 2 ore di passeggiata bellissimo solo io e lei troppo troppo bello e abbiamo fatto 11.000 passi fantastico troppo troppo bello passeggiare Pacer Pacer si chiama Pacer forse peso eh no però con la C si scrive perché leggo le domande sai che faccio mi blocco come bing perché leggo tutte domande una dopo l'altra no mi incanto a leggerle vabbè sono proprio una schiappa dove vai nensi dove vai molly dorme sapone per il viso allora guarda sapone per il viso un sacco di provette di saponette buone le trovi anche al supermercato che hanno buoni inciti tipo al carité tanto tanto buone quello è il sapone nero è buonissimo per il viso per combattere che fai cioè questa bella finestra non lo fare aveva finestra perché aspetta dove stai ho messo la finestra non ti buttare si arrabbiate per fortuna fa ancora caldo oggi fa caldissimo infatti io sto a mezzo di manica ma mi vorrei spogliare fa troppo caldo auguri love sandrina carli metti una tua linea cosmetica e la metto la metto se fosse così facile però si lo sapete insomma è inutile nascondere ve l'ho detto tante volte che è un mio sogno veramente grande però c'è tanto da lavorare e spero di potervi fare presto questa bella sorpresa e spero che mi supporterete anche questo sì cercherò di farlo con tutte le forze grazie ci vogliono pure i soldi è vero ma ci vuole tanto tanto impegno e tanto tanto lavoro dietro veramente tanto però poi io sono una perfezionista di quelle proprio che è veramente è vero anche detta rompi balle e quindi voglio tutto come dico io e quindi alla fine c'è c'è molto 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 da fare grazie che belle tanti baci che belle siete cosa ne pensi dell'olio di cocco in cucina io non lo mangio ragazzi lo sapete perché io ho letto molto perché sapete che io mi informo molto mi piace tantissimo informarmi su queste cose anche dell'alimentazione e ho letto molti pareri discordanti cioè sull'olio di cocco ancora si dice sta cosa che comunque fa male che comunque c'è che è vero chi invece lo consiglia c'è chi no quindi io nel dubbio poi vi devo dire la verità l'olio di cocco io l'ho sempre usato sui capelli tipo con gli impacchi per le ricette cosmetiche la sapete la coccarlita la struccarlita e allora cioè non riesco ad abituarmi a quella cosa di poterlo mangiare mi sembra che mi sto mangiando il burro di carità che io vi giuro cioè non riesco perché o meno è la mia concezione poi adoro tantissimo l'olio extravergine d'oliva sapete che comunque il migliore fa benissimo infatti noi mangiamo veramente ci può dire quasi esclusivamente quello perché è ottimo sì è strano e invece l'olio di colza no io lo evito comunque perché è un olio comunque scadente ragazze quindi ecco magari per esempio qualche biscotto l'olio di girasole ok ancora va bene però tutti questi altri oli vegetali olio di colza cose strane insomma preferisco evitarli è l'olio di palma poi ride vabbè sì è no l'olio di palma anche lo dobbiamo evitare perché comunque fa male poi c'è anche la questione perché io poi questa cosa la vorrò approfondire magari in un video poi vediamo un po' in un posto e c'è anche la questione ambientale che è molto importante guarda molly molly mettiti vicino a me non sottovalutiamo sta cosa del problema ambientale dell'olio di palma che è molto molto importante salutami anto vita ciao nella mia città apriranno il suo mercato bio grandi marche che ne pensi beh fantastico cioè io sono contentissima quando vedo cioè questa cosa che sta diventando enorme pensate che io nel 2009 lontano quando ho iniziato a fare i video e approcciarmi a questa realtà non c'era nulla cioè ma assolutamente non c'erano tutte stelle linee bio sebbe perfumerie quindi sono veramente felicissima è un po' come aver raggiunto veramente un piccolo grande obiettivo di far diventare questa piccola realtà una grande realtà quindi ancora non ci dobbiamo fermare sempre più grande perché vedete che man mano anche i prezzi stanno diventando un po' più piccoli più accessibili e quindi fantastico la nascita tutte queste berfumerie su questi negozi gli impacchi di oli vanno bene sui capelli bagnati o asciutti vanno bene sui capelli devono essere sempre bagnati o al massimo inumiditi perché comunque l'olio può altrimenti andare a fare l'effetto contrario di seccare i capelli quindi è meglio prima inumidirli un pochino per fare l'impacco con l'olio faccio il tapirulano ah faccio il tapirulano e ci guarda che bello fantastica ti amo grazie natural cosmetic che belle che siete al aspetta che è molto veloce non si capiscono qualche incontro a Bologna beh allora prima ho detto Firenze però anche Bologna è veramente credetemi una città che adoro troppo potrei anche adiverci a Bologna perché è veramente fantastica come città è vero si è bellissima è troppo troppo bella è bella di giovani di locali si è bella proprio Bologna è troppo bella quindi se ci sarà l'occasione di fare un incontro sicuramente state tranquille che verrò proprio con tutto il cuore un bacio grande ciao Martina ciao Nancy al fidanzato l'abbiamo detto proprio nel video di ieri lei con gli occhi acquaricino però è timida ragazzi io la devo proprio far far sciogliere un poco vi farò raccontare tutto vi farò dire tutti i segreti su suo fidanzato che è così bello raccontare una cosa bella guarda che bello cioè non c'è nulla di male perché vergognata gli haters gli haters ma che te ne importa allora io penso che ragazzi guardate questo cartello è vera sta cosa degli haters guarda sei bellissima ok stai così se mi meno una cozza anzi una cozza col cappello fantastica bellissima dai sto bene così non leggo vero i commenti comunque sta cosa degli haters stavo dicendo è vera che comunque tutti questi insulti queste polemiche però penso che non ti devono limitare a te nelle tue cose cioè se tu vuoi dire una cosa e vuoi fare una cosa non ti devi limitare pensando che poi stanno gli haters io non l'ho mai fatto me ne sono mai fregata perché se no fai il loro gioco quindi ci devi parlare del tuo fidanzato hai capito vabbè senza parole una cozza col cappello ma quanti cuoricini che ci mandate che bello più cuoricini grazie ragazze vieni in Toscana si voglio venire Nancy sei dolcissima anche tu siete sempre voi stesse avete un rapporto meraviglioso che sta meglio un po' ci diamo ci diamo anche le capate poi di tanto però è vero abbiamo un rapporto meraviglioso è una bella fortuna chi c'ha una sorella mi capirà è veramente una bella fortuna per tutta la vita non solo quando sei piccolina magari vai a scuola a proposito oggi è stato il primo giorno di scuola è vero è vero com'è andata chi di voi oggi ha fatto il primo giorno di scuola ragazze catastrofe stamattina la sveglia com'è stata è stata dura no non ho 18 anni ho 45 anni mi metto nei posti panni che veramente la prof mi ha interrogato ma dopo poverina memi il primo giorno di scuola interrogazione ma chi è sta prof cattivissima io inizio il 16 a me si va mercoledì vabbè dai ragazze comunque è anche bello a me piaceva andare a scuola tornare a scuola dopo le vacanze insomma la botta vecchiona no aspetta voglio dire la botta della sveglia di svegliarmi presto anche per me era un trauma però il fatto di poter tornare e vedere gli amici e di riprendere la tua routine è una cosa che a me piaceva insomma raccontare cose fatte in vacanze insomma uno un lato positivo lo deve trovare insomma che fai i compagni mi stanno antipatici no ma dai ma perché tutti voi che ti hanno fatto ho passato il mio bimbo all'asilo che bello madonna deve essere un'emozione troppo bella quando i bambini vanno all'asilo però ho paura di paura perché io metto sempre nei panni di quelle mamme io veramente c'era un po' spaventata non lo so io sono un po' un caso patologico troppo ansiosa bambini piccoli Carlotta l'esame ah ho visto latte detergente della botanica l'MD me lo consigli allora io feci il video dell'MD della botanica io se mi sbaglio latte detergente vi dissi che non andava bene adesso non mi ricordo però latte detergente io ho il computer davanti nel frattempo scrivo scrivi un po' tu renditi utile latte detergente è buona che condanna vai scrivi scrivi guarda altro che gioia ste sorelle mi vorrebbe ammazzare comunque è tardissimo è sole dobbiamo andare ci dobbiamo andare merenda palestra è tardi top e flop no questo è ah allora è latte detergente sì dai comunque te lo faccio sapere ma perché non si apre questo è latte detergente ma noi non abbiamo comprato il latte detergente no sicuro no aspetta dai sul blog nuovo aggiornamento sì aspetta questa ragazza questa è brava eh questo allora sì latte detergente forse è un buon inch dai non lo so però l'ho usato ma no non mi ricordo ragazzi voi non mi ricordate nel video oggi che mangi a merenda l'ho detto prima è un segreto non lo posso dire perché ieri abbiamo fatto il video e che lo mettiamo sul nostro secondo canale nei prossimi giorni ed è una ricetta troppo troppo carina super semplice della merenda sana e leggera che è molto molto buona infatti adesso mi sta venendo una fame a pensarci che sta nel frigo e lo devo mangiare per favore mi saluti ciao Alessandra non c'è troppo bella sta cosa è una figata pratichi pure yoga ce ne parli sì allora a volte si l'ho fatto però diciamo che è difficile quindi bisogna allontanarsi un po' di più e invece ho trovato sta cosa del pilates che diciamo è un mix fra lo yoga e altre discipline e anche i movimenti tipo del nuoto c'è la signora affacciata alla finestra ti guarda sta affacciata alla finestra finta col cellulare in mano secondo me ci sta guardando pure lei dici tu no signora ciao signora però adesso ci guarda poi dal barcone grazie Martina e poi c'è il cellulare in mano comunque dove avete comprato i pesi hanno i pesi perché noi a volte capita che le facciamo anche a casa per cui la casa abbiamo comprato i pesetti l'abbiamo presa sul mercato la l'abbiamo pagati poco ragazzi costano poco pure il tappetino tranquillo tipo un paio di euro comunque costano poco veramente che canzone ascolti allora oggi madonna avevo in testa quella canzone quella là hashtag fuori c'è il sole fuori c'è il sole non fa così fa così hashtag fuori c'è il sole ma che fai ma perché ti fa così la canzone non fa così pure Molly mi guarda schifata comunque è troppo bella quella canzone mi dovete credere io mi sveglio la mattina è l'orenzo frago sì l'orenzo frago mi sveglio la mattina con le canzoni in testa sembro un jukebox e me le canticchio in testa e mo oggi è la giornata di hashtag fuori c'è il sole hashtag fuori c'è il sole vuoi condividere come oddio così vengo a piovere però troppo bella è bellina quella canzone perché poi io adoro il sole mi trasmette una cosa di positività troppo troppo bella sì l'orenzo frago la è vero quindi vabbè ascolto canzoni del momento però anche canzoni del passato che magari più romantiche mi ricordano la mia infanzia insomma ascolto un po' di tutto devo dire a me taghiamo la musica proprio a 360 gradi nancy che lavoro fai? lo scopritete presto ma questa proprio non vuole dire niente noi vogliamo sapere sono muta vogliamo sapere tutto di te tutti fatti me tutto vogliamo sapere ci devi dire tutto anche il tuo numero di scarpe il tuo codice fiscale tutto grazie no però io allora io voglio fare un video nancy risponde dove nancy risponde a tutte le domande tutte che lavoro fai io spero anche il mio codice fiscale tutto ma dai che lo dobbiamo fare secondo me le ragazze piace perché comunque loro diciamo di me più sanno le cose invece di te non ti conoscono ancora bene giustamente adesso che comunque fai anche i tuoi video e le cose assieme a me loro vogliono sapere di più nancy risponde nancy risponde ciao paola apri il canale nancy amara ma lei diciamo che il canale io gli ho sempre detto ma tu apri il canale lei non l'ha mai voluto fare che lei diciamo tutte le cose deve essere sempre un po' spronata perché non è una persona che gli piace stare al centro dell'attenzione io se non l'avessi io per scherzo detto ma dai abbiamo fatto questo video così il primo video degli acquisti che facciamo assieme e lei la convinzi proprio la dovetti pregare poi da allora devo dire la verità molto con il supporto di voi le ragazze nei commenti che dicevano ci piace troppo questi video allora lei si è convinta adesso diciamo li fa assieme a me ma se no cioè diciamo da te non sarebbe mai partita sta cosa perché lei è un altro tipo di carattere non mi piace stare diciamo che neanche a me comunque mi piace troppo insomma così tu perché volevi condividere i cosmetici si volevo condividere queste grandi passioni si è vero perché comunque ogni cosa bella che io scoprivo all'epoca un olio una crema una cosa non era bella cioè se io non la condividevo non era abbastanza bella cioè condividendola diventava più bella come cosa non ce la faccio a tirirmi tutto per me quindi dovevo condividere adesso poi è diventato insomma normale fare video farmi vedere quindi non mi sento che sto al centro dell'attenzione ma una cosa talmente naturale mi saluti Paola ciao Paola quando venite a Milano siete fantastiche ciao Teresa ciao ciao tutti bene per me sei diventata un modello di quotidianità cioè che bello ma aspetta ma quando mi dicono queste cose io sono troppo contenta grazie che bello grazie devo venire vicino a molla decisivo aspetta aspetta stavo per spezzare il ginocchio aspetta molli amore ciao amore ciao amore ciao molli mi fa far buttare i fingri e mi darei morsi amore ciao che bella che molli la mia amore è dolce dolce guarda guarda come sta non mi sto scocciata molli lo vuoi il biscottino oh che cosa si vuoi che dormire oddio troppo roppo bello ragazzi io vi saluterei perché è tardi vi ho detto devo andare a fare la merenda e poi dobbiamo andare in palestra e poi stasera ci vediamo il film ma chissà se ce la facciamo Nancy puoi dire qualcosa mi sembri la mumbia no è successo un piccolo inconveniente che non mi posso dire che cosa molli puzza un po' è vero madonna apri un po' la finestra oddio sto morendo apri molli ma che fai no lasciala stare no lasciala piccolo aspetta amore che bella no ma dobbiamo chiudere qua bianchino bianchino abbiamo fatto vedere il video di ieri ciao chiudo madonna doppia pure il gatto già faccio lo so vabbè pure bianchino ciao sono bianchino eccolo qua quello di ieri vabbè l'hanno visto nel video di ieri basta è piaciuto molto è piaciuto molto è vero perché quello diciamo che bianchino è il gatto è più di mia sorella questo gatto qua è vero bianchino e invece molli è il mio cane insomma così poi tutti quanti vogliamo bella tutti quanti va bene ragazzi vi salutiamo in questi giorni se volete facciamo un'altra live così magari mi fate più domande così preparatevi pure le domande e più che altro per passare qualche minuto assieme poi non lo so perché io tipo veramente è la seconda volta che apro questo programma periscope periscope come si chiama e quindi non lo so neanche usare non so le altre persone come fanno quindi se avete consigli su cosa fare come utilizzarlo a meglio insomma lasciatemi dei commenti però qua non si possono lasciare i commenti dopo no quindi lasciatemi i commenti qua non stiamo su youtube o su instagram o su facebook così magari leggo le vostre richieste e facciamo un'altra live ancora più bella ragazzi vi mando un bacio grande ci vediamo nel video di domani domani è partita di nuovo video vi aspetto ragazze tanti baci vi voglio tanto bere ciao ragazze ciao 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 manuela ciao natural cosmetics alla prossima speriamo di avervi tenuto un po' di compagnia tanti baci ciao Sara ciao ciao golga ciao martina ciao ciao erica ciao raga ciao carlotta ciao ciao teresa va bene ciao la scelta come si chiude scorri verso il basso per chiudere ciao ragazzi mua a chiappa dai interrompi ciao 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 ciao